...effetti di luce dinamica la luce è veramente è veramente bella, fa proprio un sacco tra l'altro la luce è praticamente uno dei trucchetti più sgravati dei videogiochi negli ultimi 20 anni penso l'hanno sempre migliorata e migliorata e gli effetti di luce sono la cosa che rende tutto quanto realistico oppure un pacco infinito inguardabile basta vedere giochi come che è successo qui? come Skyrim per esempio che con effetti di luce aggiornati e migliorati ancora oggi sembra, a parte che è in capolavoro a prescindere pure se fosse fatto con la grafica di Minecraft però rende meglio where did you meet Darwin? speak? or skill or skin you alive? no però non stanno facendo un'investigazione fatta bene, dove hai conosciuto Darwin e non Draven quello di League of Legends parla oppure ti spello vivo I don't know I don't know anything I swear I've never heard that name before please don't beat me anymore infatti dice non lo so non so nulla lo giuro non ho mai sentito quel nome prima d'ora per favore non picchiatemi ancora stop this immediately I didn't give you my permission to beat my subjects fermo non c'è no no come quei cani no fermo fermati immediatamente non ti ho dato il permesso di picchiare i miei sudditi pezzo di fango ma arriva la tipa it seems I was right in my suspicions the rule of law in this land is just a bunch of empty words worth no more than a wooden coin it's not surprising she is seeing the rulers weak will questa adesso gli taglio la gola dice sembra che avessi ragione con i miei sospetti i miei sospetti fossero fondati la le leggi di queste terre sono solamente un una cozzaglia di vuote parole parole senza significato che non valgono più di un di una moneta di legno o di una banconata da 7 euro non non mi sorprende questo non mi sorprende vedere la insomma ci ha dato dei deboli in buona sostanza dice che siamo deboli guardie arrestatela dice ce ne andiamo continueremo la nostra indagine altrove don't get in the way of the order of the rock baron this is my final warning questo è il mio ultimo il mio ultimo avvertimento non vi mettete in mezzo arrestateli ma io ho chiesto scusi what ma io non ho potere della mia baronia io stavo stavo arrestato io ho detto arrestateli non mi hanno cagato sono un barone di merda ma perchè non mi hanno incurato le mie guardie guardie fate quali sono scomparsi guardie le avete fatte sparire non avete fatto nulla maledizione dovevano stare nelle mie prigioni adesso non glielo dico più guardie arrestateli l'unica volta nel gioco che ho detto guardie arrestateli non hanno fatto un cazzo ma perchè che miseria maledizione io voglio capire sti nuovi eventi lì che cazzarolo sono ma dobbiamo fare tutta sta strada che ahhh virai questo lo potevano velocizzare per esempio non l'hanno ancora sistemato però secondo me piano piano ci daranno un taglio sui viaggetti lunghi perchè avranno capito che sennò è improponibile uomini di gertola ma sei imploso quello di gertola sono implosi tutti benissimo combattimento super difficile signori bravissimi applauso live andiamoce abbiamo preso probabilmente uno di exp per ogni nemico ucciso ma meglio di nulla e continua e continua questa è un'altra cosa interessante quando mouse over quando metti la freccia su il nome quello pure non l'avevo mai notato di una di una zona di una parte della mappa tipo qui glenebone forse perché non l'ho completamente scoperta non me lo fa ti dà le informazioni della cosa e accende pure la scrittina la scrittina per esempio qua north narl marches si accende e mi dice the narl marches the narl marches spread across the lowlands bla 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 molto carino molto carino non ci ho mai fatto caso onestamente può darsi che sia un'aggiunta fatta abbastanza recentemente continuiamo la nostra esplorazione e no abbiamo trovato la tomba non continua fuck non continuiamo la nostra esplorazione andiamo la tomba di armag enemy approaching che nemici abbiamo qui oh dei lupetti questi li facciamo secchi in un secondo però sono un paio questi ma se io faccio questa voglio provare prendono danno quando menano sereniti smettono dopo di menare che fa sereniti che fa ah ok prendo 3d6 danno mi volta ancora attacco wow esplodono da solo no martellozzo di amiri sta rendendo parecchio prossimo livello vedo di metterle la maestria nel martellozzo a due mani ok andiamo verso la tomba di armag prima facciamo un riposino riposiniamo ok ok un'arma di ton in teoria your characters cannot sleep in medium heavy armor questo già ce l'aveva detto Non si può dormire con l'armatura media o pesante E quindi quando ti attaccano nel campo Mentre dormi non sei in armatura Nel caso in cui tu subisca un agguato A meno che tu non abbia tempo per rimetterti Dobbiamo andare ad armare Come si può essere Ok quindi praticamente Stanno chiacchierando a bassa voce eccetera Appena ci vedono mettono la mano sull'arma Però capiscono che siamo noi E fanno sul tronco su cui sono seduti Ci saluta quindi ci dice Ci invita a sederci E ci chiede che Se abbiamo sentito parlare della battaglia tra i Tiger Lords Restov Dice chi ha vinto Come è andata Non è stata neanche una vera battaglia Le due armate Si sono guardate tra di loro E dopodiché i barbari Se ne sono tornati a numeria So that's what happened Well maybe it's for the rest We couldn't have conquered the rest of anyway In this way At least we didn't lose our fighters' lives Fighting it out Ok diciamo Comunque questo è quello che è successo Probabilmente è stato meglio così Non avremmo potuto conquistare Restov in ogni caso E se non altro Non abbiamo fatto Perdere le vite Ai nostri combattenti Combattendo una battaglia Che non si poteva vincere Devo andare Arrivederci Devo andare da Armag A me non me ne può fregare di meno Oh interesting Ah un altro Cosa Feticcio C'è parecchio luco Questo Questo E questo 500 gold Ok Questo e questo Parecchi feticci nascosti ci sono Ah 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 le defaced sisters Maledizione Queste vanno sciolte con l'acido Prima che facciano Che facciano le uova Distruggetele Oh su Oh ist ha perso Oh ist ha perso Oh Oh Mortacci Distruggete quest'altra un po' Ok Non è stato troppo difficile So that's it The witch is gone There is no turning back now Armag won't waste Anytime investigating He'll just tear our heads off C'è quindi ecco qua La strega è morta Non possiamo tornare indietro adesso Armag non perderà tempo Ad investigare Ci staccherà la testa Tutti quanti To the abyss with him To the abyss with him We are supposed to wait here for him Until we are old and gray He is a traitor Not a chieftain First he takes us to conquer Restov Without any proper scouting Like sheep to the slaughter And then he leaves his forces Right before a huge battle To go digging around in some hole in the ground Other chieftains have been deposed For far less Ok Insomma Dice Che se ne vada Nell'abisso Dobbiamo aspettare qui Finchè non diventeremo vecchi E grigi E' un traditore Non Non un capo Non un comandante Prima ci porta A cercare di conquistare Restov Senza fare scout Senza insomma Fare nessuna ricerca Per capire Che esercito hanno i nemici Eccetera eccetera Come delle pecore Al mattatoio E dopodiché Lascia le sue forze Subito prima di una battaglia enorme Per andare a cercare A scavare qualche buco Sottoterra Altri Altri capi sono stati Deposti Per molto molto meno Right Enough is enough I say Whether he is alive or dead We go back to Numeria We'll tell the elders everything And they can choose A new chieftain Infatti Ecco è giusto Quando è abbastanza Abbastanza Che sia vivo o morto Noi ce ne andiamo a Numeria Diremo ai nostri Anziani Tutto quanto E ne sceglieranno Un nuovo chieftain Buona fortuna Vaffanculo Che palle sti brain Maledetti Leva gli stu brain Ne metto 27 Possa Possa Entriamo No C'è del loot C'è dell'altro loot Bello Ok boom 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 Adesso entriamo Yes C'è da leggere questo L'entrata è semplice E inconspicace L'entrata è semplice Sembra che Armag Proprio come il suo dio Non amasse l'ostentazione Adesso mi aspetto Almeno almeno Otto trappole Mamma mia Sti scattini dopo il salvataggio Che fastidio Fresh footprints Ok ci sono dei Delle tracce Di pericolo Spettro Facciamo il vostro amico Bless Che bless Ci sta Dura un bel po' Se Facciamo scattare il gioco Un altro po' Quindi hanno risolto La cosa di caricamenti Adesso però Hanno aggiunto sta cosa Che scatta il gioco Dopo che salvi Che fastidiosissimo Guarda che scatti We felt a cold breeze As soon as we entered the room Ice shards appeared On the wall and floor And a labyrinth Of thick ice walls Grew up around us The walls were waist high To a human But they were head high To me The center of the room Had a pressure plate On the floor While the entrance To the labyrinth Had a massive pedestal Carrying a tiger statue Made of ice The exit Was at the far end Of the room Locked of course And the inscription above it Read trial of strength The air in the room Was cool And the temperature Dropped with each passing moment It seemed like The magic Was stealing all warmth 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 From the room Bit by bit Wasting No more time We Blah 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 Allora praticamente Si è creato questo labirinto Che non era alto in realtà Era alto fino Fatto di ghiaccio Alto fino alla cintura Ovviamente Lindsay Specifica il fatto Che per l'era Alto sopra la sua testa E l'aria si fa sempre più fredda Quindi non abbiamo tempo Dobbiamo sbrigarci In fondo Alla stanza C'è questa Questa grossa statua Di Tigre Fatta di ghiaccio E l'uscita È dall'altro lato Della stanza Quindi dove c'è La tigre Ah no Al centro Della cosa C'è il piedistallo Con la tigre Dietro le spalle Della tigre In fondo Alla stanza C'è l'uscita E senza perdere tempo Decidiamo di Dice che è una cosa di forza Quindi proviamo con Athletics Spacchiamo i muri Failed If you want to pass a barbarian trial You have to think like a barbarian The inscription over the door was clear The trial was meant to prove strength Not mental prowess Or puzzle solving skills So we went with a barbarian approach And began breaking through ice walls Making a path straight to the center It proved harder than we thought The walls were thick And the magical ice Radiated cold That could penetrate Our thickest clothes On top of that Once we made it halfway To the center of the room We looked back And saw that the gaps In the walls Were slowly mending themselves With new layers of ice We reopened the gaps again So we could push The tiger through And we started to think On what to do next It seemed that there was still A lot of walls ahead of us Ok quindi Praticamente non ci siamo riusciti del tutto Però giustamente abbiamo provato L'approccio dei barbari Perché questa è una prova dei barbari Abbiamo provato a spaccare i muri Il problema è che Quando siamo arrivati alla statua I muri hanno cominciato A richiudersi dietro di noi Continuiamo a spaccare le mura Ci siamo riusciti Before the biting frost Could turn into icicles We began breaking the ice walls And pushing the statue Through the gaps Moving ever closer To the center Finally the last wall fell And we pushed the ice tiger Onto the pressure plate The pressure plate trembled Beneath the statue Wait And then roaring pillar of flame Erupted All the way to the ceiling The ice tiger evaporated In a heartbeat Along with the entire labyrinth The room warmed rapidly Even becoming a bit hot The stone door opened And the path was clear Ok quindi ce l'abbiamo fatta Abbiamo spinto La tigre sopra una pressure plate Che ha attivato Delle fiamme Che hanno sciolto il ghiaccio E la porta si è aperta Possiamo andare di giù E di qua Andiamo prima di qua Non mi salvava C'è un catavere qua Strano Sì C'è un layer of dust Mi raccomando Alan Fa cazzate A trivial matter Sì Dici sempre Sempre trivial matter E poi dopo Ci becchiamo I trappoloni incredibili Allora Andiamo avanti Vediamo un po' Dice una porta finita Dice una porta finita Dice una porta finita Trivial matter Quindi troppo Potevo ridare Ok non era troppo difficile Che non mi ha detto Quello che ho lootato Armor più tre Vediamo un po' Se ce l'hanno tutti Lui c'ha il più due Resistance più due Ok Va bene Oggi c'ho un martedesta Scusate se non parlo tanto Mi sta esplodendo la testa Solo che Bene Non ho più puntate di Botfinder E non voglio privarvi Delle uscite Leather Ghost leather Questa interessante Vediamo un po' Grancesworth Effect Greater Invisibility Ah Greater Invisibility Per due round Dopo che viene colpito Da un Da un nemico Ah Questo è meglio E va No E lei c'ha Quella del True Master No No Se ci avevamo un Un Come si chiama Un assassino Mele Magari Poteva Avere il suo Ma così Non credo che abbia utilità Vediamo un po' Quanto abbiamo Visto C'era pure sta stanza qua E abbiamo Dopo la vediamo Ti pareva un'altra cosa Un'altra trappola Una maledizione Sì Io sto ancora qui Un'altra trappola Ok In due time Questo è lo stanzone grosso Dove succedono le cose Ah Questo sta Cassando cose Ma merda Mule Vabbè Solo lui No Tipo Un maledizione Questo non ci voleva proprio Un maledizione Ah Fortunale finiamo prima il giro quassù ci ripasseremo poi da quella scatoletta che non si apre nessuno di segreti può escapare i miei figli una cosa triviale guarda in avanti questi pure erano venuti a fare la stessa nostra ricerca e sono morti tutti questa l'ha vista proprio all'ultimo hai detto questo era semplicemente un corridoio niente di più niente di meno ma di qua che c'è sta ah c'era la cosa ok possiamo discendere nel dungeon per quanto non mi forse mi conviene andare fuori e campeggiare un attimo è una mossa più furba che possa fare così almeno non devo sprecare le razioni infatti tutta sta cosa della delle razioni del campeggiare eccetera veramente no mistake questa era proprio l'ultima infamità non è possibile una cosa triviale cosa è più importante andiamo al caricamento con me sarà sicuramente molto veloce Allora, sai che c'è? Me ne vado Visto che ho pure i livelli permanenti Questi qua Poi ce n'ho uno No, 24 ore 24 ore, 24 ore Vabbè, meno male che non sono quelli permanenti Se no dovevo tornare in città Quindi dovrebbe essere Il drain ora è permanente Adesso usciamo E facciamo riposare Ma come è ancora 14 ore? Ma vaffanculo Faccio riposare di nuovo Ok Ok È vero che il riposo ci mette 8 ore Più il tempo che ci impiega A trovare il cibo Amiri Ok E questo ce lo dobbiamo levare Siamo golden Salviamo Entriamo Andiamo al piano di sotto Belli carichi Andiamo al piano di sotto Andiamo giù Altro devo ricordarmi Che ha lasciato lo slow Andiamo al piano di sotto Eh no Mi pare che ce l'hai a waste I can't Facci vostri Due casse che non si possono aprire E' un po' confuso il fatto che siamo scesi Andando da qui verso qui E poi l'altra mappa va Nella direzione opposta Mi pare che siamo arrivati qua No Invece c'è subito uno spectre E' un po' confuso il fatto che stavano E' un po' di marghezzi liberi